Io penso che faccia solo bene giocare, perché comunque per tre mesi abbiamo fatto poche partite e penso che il ritmo partita si acquisisca solo a forza di giocare. Quindi per quanto mi riguarda, effettivamente ora un po' l'ho accusata, però penso che faccia bene per entrare in forma prima. Ma sì, probabilmente il nostro modo di giocare è quello che ci porta a essere. Noi siamo abituati a tenere la palla, a cercare di far gol e palla a terra. Magari le altre squadre lo sanno, ci conoscono e comunque effettuano una partita un po' più difensiva e magari per fare una partita più difensiva a volte serve essere un po' più cattivi. Noi invece che magari cerchiamo di giocare la palla dobbiamo capire che nonostante giochiamo la palla dobbiamo essere un po' più aggressivi, comunque più concentrati, un po' più cattivi. Ma è stata una bella botta sicuramente perché personalmente sia io e penso anche gli altri eravamo convinti di fare un altro campionato. Però ci ritroviamo qui a disputare un campionato di Lega Pro e penso che bisogna farlo bene, cercarlo di fare come l'altro anno e impegnarsi al massimo per cercare almeno di provare a rifare quello dello scorso anno. Dobbiamo dimenticarci della scorsa stagione e ricominciare un attimo da zero perché se no faremo fatica. Il campionato è difficile e queste due partite l'hanno dimostrato.